Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Manca poco al Natale del 2021. Il 14 dicembre Liliana Resinovic, di 63 anni, ex dipendente regionale in pensione, esce dalla sua casa a Trieste, in via Verrocchio, poco dopo il marito, Sebastiano Visintin. La coppia ha appena finito di fare colazione e verso le 7.45 Sebastiano esce di casa. Lo stesso fa Liliana tra le 8.22 e le 9, ma lascia a casa la sua borsa con il portafoglio e i suoi due cellulari che vengono trovati qualche giorno dopo in un armadio. Una negoziante di via San Celino, nel rione San Giovanni, dove abita Liliana, racconta di aver visto la donna la mattina del 14 dicembre, davanti al suo negozio, tra le 8 e le 9. A conferma di quanto raccontato dal marito di Liliana, secondo cui la moglie sarebbe uscita di casa quel mattino per gettare l'umido. L'uomo, uscito poco prima della moglie, è poi tornato verso l'ora di pranzo, per poi uscire nuovamente nel pomeriggio, senza allarmarsi per l'assenza della donna. Però, dopo una serie di telefonate a vuoto nel corso della giornata, una coppia di amici convince Sebastiano a recarsi in questura e a procedere con la denuncia di scomparsa intorno alle 22 del 14 dicembre. La testimonia oculare che sostiene di aver visto Liliana ha raccontato È passata velocemente, camminando con la testa bassa, ed era vestita con abiti di colore scuro. Non ricorda se effettivamente Liliana avesse con sé la borsetta, oggetto che è stato poi ritrovato nell'armadio della camera da letto qualche giorno dopo la sua scomparsa. La donna racconta, infatti, non ho visto se aveva la borsetta, perché non vedevo la mano sinistra, siccome scendeva verso giù. Liliana è solita portare sempre la borsa sul lato sinistro, particolare che viene confermato dalle tante fotografie che appaiono sul profilo social di Sebastiano Visentin. La negoziante fa la sua deposizione mercoledì 22 dicembre, dopo aver contattato le forze dell'ordine a otto giorni dalla scomparsa di Liliana. Ha raccontato di non aver chiamato prima la polizia perché aveva preferito aspettare e verificare la veridicità della notizia. Ha dunque spiegato agli inquirenti. Io l'ho scoperto per caso da una signora che non è neanche di San Giovanni. Mi ha detto che aveva visto un post su Facebook, era sabato 18 dicembre, quattro giorni dopo la denuncia di Visentin in questura. Sulla scomparsa di Liliana indaga la squadra mobile e la procura di Trieste, ha aperto un fascicolo. Sono stati acquisiti due cellulari della donna e un estratto conto bancario rinvenuto in un cassetto del comodino di casa sua. Amici e parenti, nei giorni successivi alla sparizione, hanno commentato la scomparsa di Liliana e smentito che, tra lei e il marito, ci fosse il rapporto idilliaco che Visentin ha descritto alla polizia. Il giorno della sua scomparsa, Liliana era attesa a casa di un amico di vecchia data che aveva ripreso a frequentare alla fine di agosto, dopo tanti anni. È quanto raccontato dall'uomo che ha chiesto l'anonimato, raggiunto al telefono dalla redazione del quotidiano online Trieste Prima. Nel loro ultimo contatto telefonico, Liliana ha detto di dover passare da un negozio di telefonia in via Battisti, prima di raggiungerlo a casa sua. In quel negozio, però, sembra che nessuno l'abbia vista e a casa dell'uomo Liliana non è mai arrivata. Secondo il suo racconto, la donna avrebbe dovuto dire al marito che aveva intenzione di lasciarlo dal 16 dicembre. Alle affermazioni dell'uomo e di una cugina di Liliana, Sebastiano Visentin risponde Come fa a dire questo signore che Lily non mi amava più e che avrebbe dovuto andare a stare da lui? Ma si rende conto di quello che abbiamo noi qui a casa? Se qualcuno ha qualcosa da dire, che venga a dirmelo. Io non ho riscontri di questo, ma non voglio giocare a tennis con lui. Aggiunge poi Può darsi che mi arrivi un avviso di garanzia, ma la cosa non mi spaventa. Non ho intenzione di andare da un avvocato, perché le cose verranno fuori da sole. Io non ho fatto del male, non ho niente da nascondere. Ora facciamo un piccolo salto in avanti. È il 5 gennaio 2022 e nel parco dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, in un sentiero vicino all'edificio V di Via Weiss, Civico 21, viene trovato il corpo senza vita di una donna esile, chiuso in due sacchi per rifiuti neri. La testa è avvolta in due sacchi di plastica trasparente, come quelli usati in cucina. Sono legate attorno al collo, quindi la morte è avvenuta per soffocamento? Ebbene, quel parco non è un posto qualunque. È vicino alla casa di Liliana. Il cadavere è in posizione fetale e indossa un giubbotto di colore grigio. Si tratta del corpo di Liliana? Gli investigatori chiaramente lavorano per scoprirlo. Accanto al cadavere sono stati trovati un guanto, una borsa nera con le chiavi di casa, quelle di scorta però, e una bottiglia con del liquido. Si parla di elevata probabilità che il corpo sia di Liliana in un comunicato diffuso in tarda serata dalla prefettura, dopo che i resti sono stati portati via da un carro funebre. È ovvio, solo l'autopsia può dare la conferma. È necessario quindi aspettare. Il marito della donna, preso del ritrovamento del cadavere, è arrivato sul posto accompagnato in auto da un'altra persona. Il punto è che nessuno lo ha contattato per un eventuale riconoscimento del corpo. Piega di essere giunto lì di sua iniziativa. Ha anche continuato dicendo «Spero di non trovare il corpo di Liliana». Poi, conclude il lacrime, non ho neanche più voglia di vivere. E proprio in merito ai particolari del ritrovamento, l'uomo precisa che Liliana ha tanti capi di abbigliamento, anche i grigi. Sebastiano fa poi un riferimento all'uomo di 82 anni, Claudio Sterpin, che ha affermato di avere un'amicizia affettuosa con Liliana e che il fine settimana successiva alla scomparsa sarebbero dovuti partire assieme. E Sebastiano commenta che è un'offesa verso sua moglie e verso di lui. Non crederà mai che Liliana era pronta a partire per un weekend. Entrambi gli uomini sono stati ascoltati in questura il giorno del ritrovamento. Sterpin in mattinata e Visintin nel pomeriggio. È però difficile che il parco di San Giovanni sia il luogo del delitto. Anche se periferico, è molto frequentato e dentro, nelle vicinanze, ci sono importanti istituzioni. Gli inquirenti a questo punto cercano di capire i rapporti all'interno della coppia Resinovich-Visintin. L'uomo ha dato due diverse versioni su come è passato la mattinata della scomparsa. Prima ha dichiarato di aver sperimentato una telecamera per la bicicletta, poi di essere stato a distribuire i coltelli che aveva affilato in garage. Non sapeva, stando a quanto ha detto alla polizia, che la moglie avesse un'amicizia con Claudio Sterpin, che pare Liliana frequentasse e al quale faceva le pulizie. Liliana in effetti aveva telefonato alle 8.22 proprio a Sterpin, dicendo che sarebbe arrivato da lui un pochino più tardi, perché doveva passare da un negozio di telefonia. Altro mistero. I due cellulari della donna, la borsetta e il portafoglio, sono stati trovati a casa. E poco dopo le 9, quando il fratello le ha telefonato, nessuno ha risposto. E a dirla tutti i misteri non sono finiti. Infatti, poche ore prima del ritrovamento del cadavere, verso le 2.40 di notte, Sebastiano ha ricevuto una telefonata muta, della quale ha subito dato notizia alla polizia. La cugina dell'uomo parla anche di possibili questioni economiche, un conto da 100.000 euro di cui non si sapeva nulla. Una cosa però è certa. Non c'è alcun segno di violenza evidente sul corpo. Lo ha precisato il procuratore capo. Ma attualmente la certezza assoluta che il corpo ritrovato sia quello di Liliana e ancora non c'è. Dunque sarà l'autopsia, si spera a rispondere ai vari interrogativi. Ossia, il cadavere è stato trasportato nel boschetto o non è mai stato spostato da lì? Da quanto tempo si trovava in quel posto? A quando risale la morte? A causa delle temperature molto fredde, su questi punti è ancora più complicato dare una prima indicazione. Il procuratore capo ha comunque affermato che è difficile fossero passati addirittura 20 giorni dalla morte. Più probabile fossero passati solo alcuni giorni. Ma si continua a ripetere che l'autopsia potrà dare la conferma. Per il prefetto di Trieste è certo che Liliana si sia allontanata a piedi. Ecco perché le attività di perlustrazione si concentravano sulla zona raggiungibile a piedi attorno all'abitazione Resinovich. Lo stesso prefetto ha escluso che Liliana abbia preso un bus perché sono state visionate tutte le immagini delle telecamere e la signora non è stata ripresa né sulla strada che porta verso il capolinea dei bus né dalle telecamere del piazzale. Lo 10 gennaio 2022 arriva la triste conferma. Il cadavere ritrovato il 5 nell'area boschiva del parco di San Giovanni è di Liliana Resinovich. A riconoscerlo è stato Sergio, il fratello della donna. I risultati dell'autopsia concludono che la donna è venuta a mancare per uno scompenso cardiaco acuto. Secondo il medico legale non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso. L'esito dell'esame autoptico sul cadavere però non convince gli inquirenti che continuano le indagini. In occasione dell'autopsia è stato presente il professor Carlo Moreschi che Sergio ha nominato consulente di parte. Oltre a Sergio il riconoscimento del cadavere di Liliana è stato effettuato dalla cugina della donna e successivamente dal marito. È stata smentita l'apertura di un fascicolo di indagine per omicidio. Il procuratore capo ha affermato che non c'è ragione per modificare la rubricazione del fascicolo processuale. Rimane quindi la scomparsa a carico di ignoti per l'ipotesi di sequestro di persona. Al momento non ci sono motivi per privilegiare l'ipotesi che il decesso sia avvenuto a causa di condotte altrui rispetto a quella del decesso avvenuto per mano propria. Quindi Liliana potrebbe anche essersi tolta la vita. Ma onestamente io le modalità di questo ipotetico suicidio non le trovo molto chiare. Come fa una persona che si vuole togliere la vita a chiudersi dentro dei sacchi? Il 12 gennaio emerge che Sebastiano si è affidato allo studio legale di Paolo Bevilacqua. Al momento, per la vicenda, non risultano indagati. E a dirla tutta, nemmeno l'autopsia ha dato una risposta sicura alla domanda principale. Liliana è stata uccisa. Sebastiano infatti ha nominato un legale in quanto persona offesa. Nella stessa giornata viene nominato un anatomopatologo di parte, Raffaele Barisani, che prende contatti con il medico legale della procura. Il 17 gennaio la PM concede il nulla osta per il funerale e la successiva sepoltura. La procura di Trieste ha però stabilito che il corpo di Liliana può essere sepolto, ma non cremato. In quanto, se dovesse essere necessario un approfondimento o ulteriori esami sul corpo per accertare la verità della vicenda, la salma potrebbe essere riesumata. La prima grande domanda a cui cercano di dare una risposta agli inquirenti è quando è morta Liliana Resinovich? Lo stato di conservazione del cadavere fa pensare che probabilmente non sia morta il giorno della scomparsa, ma qualche tempo dopo, proprio come aveva sostenuto il procuratore capo. Per avere risposte certe occorre attendere la relazione finale del medico legale. E intanto gli inquirenti controllano tutte le telecamere di sicurezza disponibili a Trieste, comprese quelle dei bus, per capire se nei suoi ultimi giorni di vita la donna è rimasta da sola o in compagnia di qualcuno. Sono attesi anche i risultati delle analisi della scientifica sui sacchetti neri all'interno dei quali si trovava il corpo della donna. Liliana Resinovich viene seppellita il 25 gennaio 2022 al cimitero di Sant'Anna, nella sua Trieste. Nel frattempo la polizia scientifica di Mezza Italia è al lavoro da Padova a Milano per far parlare gli oggetti ritrovati accanto al cadavere. In pratica gli investigatori sono alla ricerca di tracce, impronte, presenza di altri su quella che ancora non può essere definita scena del crimine, perché non esiste la certezza che Liliana sia stata uccisa. Nel mentre trappela la notizia che Sergio, il fratello di Liliana, tramite il suo legale, ha trasmesso una memoria al procuratore. L'uomo è convinto che la sorella sia stata uccisa e che il movente sia economico. Liliana infatti aveva nascosto i codici del suo conto corrente all'insaputa di Sebastiano dietro a un quadro in camera da letto. Quando il fratello le aveva chiesto il perché di questa decisione la donna aveva risposto con un laconico non si sa mai. A rivelare un particolare importante però è la trasmissione chi l'ha visto. Il programma manda in onda un'intervista fatta proprio a Sergio. L'uomo riporta che il foglietto nascosto con i codici del conto è sparito. Alla trasmissione Rai 2 ore 14 parla Claudio Sterpin. L'uomo risponde a una domanda relativa ai soldi presenti sul conto corrente della vittima. 50.000 euro di cui si è ampiamente parlato. Afferma che Liliana non ha mai parlato di nessun tesoretto. Quella, secondo Claudio, era con molta probabilità la liquidazione di una vita di lavoro. Nulla di più. Claudio spiega anche che Liliana gli diceva che Sebastiano era pur sempre il suo consorte. Si sarebbero separati ma lui era il coniuge più debole dal punto di vista finanziario e Liliana l'avrebbe mantenuto con una parte della pensione come prevede la legge e poi ci sono 2000 euro trovati nell'abitazione coniugale. Sterpin al riguardo cerca di glissare dicendo che tutti tengono dei soldi in casa. Conferma però che Liliana era alla ricerca di una casa in affitto proprio per andare a vivere con lui. E quella casa in affitto la stava cercando Liliana perché avrebbe lasciato l'altro appartamento al marito. Un altro dettaglio che non è sfuggito agli inquirenti è che Liliana non avesse la fede al dito quando è stata trovata. L'aveva lasciata a casa insieme ad altre cose preziose e care come alcuni oggetti appartenuti a sua madre. Anche questo ha fatto pensare che la fede fosse un simbolo di legame che non c'era più e lei non la volesse più indossare nulla si può escludere. Il presidente dell'associazione Penelope Nicodemo Gentile ha nominato i consulenti di parte per quanto riguarda la tutela legale della famiglia di Liliana Resinovic. Dopo la revoca dell'incarico all'avvocato Luigi Fadalti oltre all'avvocato Federica Obizi la squadra aggiunge un genetista un medico legale e un criminologo nonché antropologo forense ed esperto in autopsie psicologiche. L'avvocato Obizi spiega che si tratta di una ricognizione un tentativo di capire i comportamenti della vittima e di ricostruire ciò che stava vivendo Liliana nel suo passato. Si parla quindi di fotografie video dichiarazione di tutti gli attori in campo dalle testimonianze oculari fino ai dettagli che riguardavano la vita della 63enne fino al giorno della sua scomparsa. Ci saranno anche nuovi esami su vari reperti tra cui figurano gli indumenti intimi che indossava la donna al momento del ritrovamento un guanto nero in tessuto elastico una mascherina chirurgica un cordino ed esami biologici su materiale organico prelevato nel corso dei precedenti esami potrebbero rivelarsi decisivi per capire cosa si è successo a Liliana. Come già detto al momento non sono state trovate tracce di violenza armi da taglio fuori di proiettile sul cadavere nulla che possa essere la chiave di questo mistero sempre più fitto. Il 15 marzo emerge un nuovo dato che può rappresentare un importante tassello nel giallo viene dai laboratori della scientifica ed è stato confermato dal procuratore di Trieste un elemento che potrebbe far pensare che la donna si sia tolta la vita stringendo da sola il cordino al collo dopo aver infilato la testa nei sacchetti. Non ci sono però certezze sul cordino è stata rilevata anche un'altra traccia di DNA non di Liliana ma troppo debole per poter essere attribuita a qualcuno. il marito e i conoscenti faticano a credere all'ipotesi del suicidio anche se è considerata dagli inquirenti fin dall'inizio gli amici rifiutano di prenderla anche solo in considerazione e mettono avanti una terza via. Il pensiero di chi la conosceva da sempre è che Liliana non aveva motivi validi per decidere di togliersi la vita dunque potrebbe essere morta per un attacco di cuore a seguito di un litigio molto violento. Una discussione è fatale quindi. Il corpo sarebbe stato nascosto per qualche giorno a pochi chilometri dal parco perché si è già nel carso dove le temperature sono sempre più basse di qualche grado. Questo potrebbe spiegare perché il corpo era così ben conservato. Se invece Liliana per motivi che nessuno conosce avesse deciso di togliersi la vita allora quei due chilometri scarsi sarebbero stati il suo ultimo viaggio. Il 18 marzo sia Claudio Sterpin che Sebastiano Visintin si sottopongono all'esame del DNA. Emerge che Liliana non ha assunto sostanze prima di morire. La prova è negli esiti degli esami tossicologici. Pertanto il quadro investigativo non è mutato. Il 9 aprile arriva il risultato delle analisi del DNA ritrovato sul cordino di nylon che stringeva i sacchi nei quali è stato ritrovato il corpo della donna. Il risponso quella traccia non è del marito Sebastiano né dell'amico Claudio. Gli investigatori della scientifica hanno la certezza che ci sia un'impronta maschile seppur molto debole. Questo è un elemento importante dal momento che la donna è stata ritrovata in posizione fetale all'interno di due sacchi neri della spazzatura aperti uno infilato dalla testa e l'altro dai piedi. Sul cordino sono state trovate soprattutto le impronte della vittima. Ecco perché non è ancora esclusa la pista del suicidio. Il 28 aprile emerge che i residui vegetali trovati sulle suole delle scarpe di Liliana sono compatibili con il terriccio dell'area in cui è stato trovato il corpo. In base agli esami effettuati Liliana potrebbe aver percorso i tratti della via di accesso al sito in cui è stato trovato il suo corpo privo di vita. La nota precisa che i resti vegetali presenti sulle suole sembrano indicare un probabile legame con la vegetazione e il suolo del ritrovamento e delle vie di accesso ad esso. Appare dunque plausibile che il materiale aderente alle scarpe in particolare quello della scarpa destra sia stato raccolto da Liliana sulla stelcato pedonale che costeggia l'ultimo tratto di via Weiss prima dell'imbocco al sito di ritrovamento. Il materiale raccolto sembra quindi indicare ragionevolmente un calpestamento del suolo di Liliana del sito e delle vie di accesso allo stesso. Rimangono però alcuni elementi di incertezza legati al cattivo stato di conservazione di alcuni frammenti vegetali che tolti dalla scarpa sono stati messi in una provetta umida e non hanno mantenuto la forma originale. Un'ulteriore conferma può essere ricercata con l'utilizzo di tecniche molecolari ossia DNA vegetale per stabilire con maggior sicurezza l'attribuzione alle specie presenti in loco. Ma cosa si intende per DNA vegetale? È l'identificazione della pianta o del gruppo di piante attraverso il DNA per semplificare. Il DNA funziona come un codice a barre per la specie. Il suolo è una matrice complessa con una componente inorganica fatta da granelle di sabbia e sassi e una parte biologica vale a dire frammenti di piante o animali. Quindi la prova del DNA vegetale serve a confrontare i frammenti di piante rinvenuti sulle suole delle scarpe con quelli presenti sul terreno. Gli inquirenti inoltre analizzano le memorie dei dispositivi della donna per controllare eventuali messaggi mail video e siti cancellati. Resta un dato di fatto i cellulari un iphone nero e un samsung galaxy sono stati sequestrati dalla polizia solo il 23 dicembre nove giorni dopo la scomparsa di Liliana. Arriviamo al 27 aprile quando la procura di Trieste conferisce l'incarico a un perito per procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile relativo all'analisi dei cellulari di Liliana. A questo punto si comincia a ipotizzare l'archiviazione dell'inchiesta. Liliana è morta due massimo tre giorni prima del suo ritrovamento avvenuto il 5 gennaio un decesso per asfissia una morte probabilmente volontaria. probabilmente la parola chiave a mio avviso. Queste sono le conclusioni a cui sono arrivati i consulenti della procura. Nella bozza della relazione di circa 50 pagine gli esperti mettono nero su bianco i risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici e le deduzioni che lasciano propendere per un gesto che non abbia coinvolto altre persone. I sacchi integri che contenevano il corpo della vittima sono poco compatibili con un caso di aggressione e con il trasporto del corpo in ambiente impervio. A questo ricordiamo va aggiunta l'assenza di qualsivoglia segno ragionevolmente riportabile a violenza per mano altrui, la mancanza di lesioni attribuibili a difesa e di altre ferite che avrebbero potuto impedirle di reagire a un'aggressione. Il fatto che i sacchetti non sono stati trovati stretti al collo non esclude a parere dei consulenti una morte per una possibile asfissia di questo tipo. Basta infatti l'inspirazione per far aderire il sacchetto agli orefizi del volto cagionando deficit di ossigeno. Tale aderenza può essere anche intermittente e addirittura non esserci perché per il soffocamento è sufficiente l'accumulo progressivo di anidride carbonica espirata ed il rapido consumo dell'ossigeno nel poco volume aereo offerto dal sacchetto. L'ipotesi di morte per asfissia dal sacchetto appare plausibile in assenza di altri segni di asfissia meccanica violenta. Non emergono chiare evidenze oggettive omicidiarie. In pratica a parere dei consulenti tecnici non è stato rilevato niente che concretamente supporti l'intervento di qualcuno nel decesso di Liliana. Le conclusioni arrivano a sette mesi dall'inizio delle indagini e a dirla tutta sembrano risolutive anche se resta da capire cosa è successo dal giorno della scomparsa a quello della morte. Il decesso di Liliana infatti risale ragionevolmente a circa due tre giorni prima del ritrovamento del corpo. L'autopsia stando a quanto scritto dai consulenti suggerisce una morte asfittica tipo spazio confinato senza importanti legature o emorragie presenti al collo e sono queste le parole che potrebbero indurre la procura di Trieste terminati tutti gli accertamenti ad archiviare il caso. L'avvocato Nicodemo Gentile che segue da vicino la famiglia Resinovic non crede al suicidio e mette in discussione l'intera relazione redatta dai consulenti della procura. Prima di tutto la bozza della consulenza di parte è incompleta poiché mancano le foto relative al sopralluogo al ritrovamento del cadavere all'esame autoptico agli abiti e agli accessori ritrovati al parco. Questo non permette l'esame analitico che consentirebbe ai medici legali di pervenire a proprie determinazioni tecniche. Nonostante questi importanti limiti le conclusioni a cui giunge l'esperto della procura sia riguardo al momento della morte che soprattutto alla causa del decesso non sono condivisibili. Questi risultati infatti sono palesemente sganciati da tringenti valutazioni scientifiche e poco rispettose di tutta una serie di elementi circostanziali arguibili dall'esame attento della scena del crimine. Oltretutto la relazione a quanto pare abbonda di supposizioni personali che non tengono in considerazione il profilo personale della donna. Insomma per dirne una lo stesso medico di famiglia che aveva Liliana in cura ha definito la donna come tranquilla e indenne da turbamenti e squilibri che avrebbero potuto comportare l'assunzione di farmaci ad esempio. L'avvocato Gentile spiega che la prima diagnosi di morte per scompenso cardiaco acuto viene abbandonata e definita di comodo a favore di una successiva diagnosi di morte per asfissia da suicidio con sacchetti. Ebbene secondo il legale meriterebbe di essere recuperata in quanto sempre secondo l'avvocato Gentile c'è una valutazione unitaria dei segni traumatici riscontrati sul corpo della donna che quindi sarebbe stata percossa. Lo dicono con un'evidenza quasi banale la palpebra destra tale oggettiva valutazione impone quasi di pensare che la donna dopo essere uscita di casa sia stata intercettata accompagnata o comunque sorpresa da una visita da parte di qualcuno che ben conosceva da cui si sarebbe sviluppata un'accesa discussione un diverbio energico e quindi Liliana sarebbe stata sicuramente percossa e strattonata e questo giustificherebbe i segni probabilmente per un momento potrebbe aver subito un'occlusione delle vie respiratorie magari con un capo di abbigliamento come la sciarpa il cappello il giubbotto che ha determinato lo scompenso cardiaco sicuramente favorito dai problemi di cuore che sia pur asintomatici sono stati riscontrati dal medico legale d'altronde riuscire a sopraffare una donna esile minuta che non raggiungeva neanche il peso di 50 chili non richiede grandi sforzi fisici a seguito della collutazione per gli aggressori è stato necessario ricomporre Liliana rivestendola solo così si può giustificare il dato oggettivo che con forza annula l'ipotesi suicidaria facendo prevalere quella della manomissione del cadavere quindi un evidente staging questo dice infatti il dato che sul polso sinistro di Liliana è stato trovato un orologio di colore rosa con la corona rivolta al contrario quindi nel verso sbagliato tale elemento è di inconfutabile valore poiché colui o coloro che hanno riagganciato l'orologio hanno sbagliato non solo il verso della corona ma anche il polso fanno parte sempre di questo goffo tentativo di manipolazione della scena il ritrovamento delle chiavi di riserva l'anomalo contenuto della borsa la probabile assenza di calzini e quel cordino definito dallo stesso consculente della procura l'asso che quindi avrebbe avuto una funzione ornamentale visto che non è stato rinvenuto nessun segno o solco sul collo della donna oltre a quello illogico utilizzo dei sacchi dell'immondizia che fanno appugni con il buon senso e le massime di esperienza qualora si volesse accedere all'ipotesi suicidiaria non è comunque da escludere che la perdita di sangue da parte di Liliana abbia imbrattato i capi di abbigliamento che la stessa indossava costringendo l'aggressore o gli aggressori a doversi liberare dei capi macchiati in ragione di tali considerazioni si tratterebbe di un delitto di prossimità in quanto maturato nel mondo delle più ampie relazioni di Liliana non è da escludere la morte come conseguenza di altro reato ovvero un omicidio preterintenzionale che poi ha indotto inevitabilmente l'aggressore o gli aggressori a dover gestire la fase successiva vale a dire occultamento del cadavere probabilmente conservato in qualche gelido a un fratto sotterraneo di cui il territorio del Carso è generoso per poi farlo rinvenire in qualche parco qualche giorno prima del ritrovamento avvolto in quei sacchi della spazzatura l'epoca della morte è palesemente in contrasto con una pluralità di elementi che vanno dalla straordinaria coincidenza della stessa colazione consumata dal giorno 14 dicembre dai vestiti puliti dal ritrovamento nel sangue di quella sostanza che ci dice che Liliana aveva avuto contatto con un detergente che si usa anche per i lavaggi in lavatrice dalla mancata ricrescita dei peli fino ad altre considerazioni di logica che non consentono di condividere le conclusioni a cui giunge il tecnico della pubblica accusa i giorni passano e il giallo di Trieste si arricchisce di una nuova puntata torna infatti a parlare Sergio il fratello di Liliana afferma che attraverso i professionisti che lo sostengono chiederà agli investigatori e alla procura di approfondire e integrare l'esame medico legale e procedere con un nuovo esame per eliminare le tante ombre che ancora rimangono sulla fine di Liliana il 31 ottobre emerge che il caso di Liliana è a un bivio ad affermarlo e la procura dopo che è stata depositata la relazione sulla morte della donna la nota ufficiale menziona il lavoro svolto dai due professionisti e le conclusioni secondo cui il decesso può farsi risalire ragionevolmente a 48 o 60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso continua inoltre a soffermarsi sull'assenza di lesioni traumatiche solchi e emorragia al collo assenza di lesioni da difesa con vesti del tutto integre senza chiara evidenza di azioni di terzi la nota afferma che gli aspetti cadaverici suggeriscono una morte asfittica senza importanti legature per questo motivo per far luce sulla finestra temporale che passa tra la data della scomparsa ossia il 14 dicembre 2021 e quella del rinvenimento del cadavere ossia 5 gennaio 2022 gli inquirenti scrivono che verrà valutato se le indagini preliminari possano dirsi completate o se invece siano opportune ulteriori attività onde non lasciare nulla di intentato all'esito di quanto detto questo ufficio adotterà le determinazioni conclusive dell'investigazione Liliana possiamo dire che è morta due volte la prima il 14 dicembre 2021 quando è scomparsa la seconda dopo il 5 gennaio 2022 quando il suo corpo è stato ritrovato il mondo dei vivi ha pensato di archiviare il caso come suicidio tra queste due date si inserisce un'altra storia probabilmente quella vera qualcuno ha picchiato Liliana l'ha nascosta per 20 giorni e direttamente o indirettamente ha provocato il suo decesso in altre parole esattamente un anno dopo le indagini devono ripartire dall'inizio e ancora una volta la domanda è se davanti a un omicidio o a un suicidio il cadavere parla sempre insegnano ai futuri medici forensi ma sembra che a Trieste non siano proprio riuscite ad ascoltarlo così fa capire l'avvocato Nicodemo Gentile presidente di Penelope se fosse stato davvero un suicidio sarebbe andata più o meno così Liliana Resinovic si nasconde da tutti il 14 dicembre anche dal marito lascia a casa i suoi due telefoni e la fede nuziale dopo la prima colazione di quel martedì non mangia per 20 giorni e 48-60 ore prima del 5 gennaio senza farsi notare da nessuno va a piedi in via Weiss e scende nella boscaglia si infila in testa due sacchetti della Conad si rilega il collo a malapena con un debole filo di lana scuro poi mette i piedi dentro un sacco nero dell'immondizia e se lo tira su fino alla vita quindi si cala un altro sacco sulla parte superiore del corpo si sdraia sulla terra al freddo e aspetta di morire a smentire l'ipotesi del suicidio non è soltanto l'assurdità delle circostanze ma anche la voglia di vivere di Liliana e soprattutto il desiderio di cambiare vita memorizzato nella cronologia dei suoi due telefoni qualche tempo prima di morire ha infatti cercato su google come divorziare senza avvocato e poi quanto tempo per ottenere un divorzio a seguire le numerose visite ai siti di annunci immobiliari online a caccia di un piccolo appartamento a Trieste dove forse voleva andare a vivere anche le telefonate in memoria non sono tutte per il marito 500 in effetti partono verso Sebastiano ma oltre 1000 chiamano il numero di Claudio Claudio è un maratoneta esattamente come Liliana è stato bersagliere autista di linea e poi programmatore nell'azienda municipale di trasporti di Trieste ha 82 anni ma si sono conosciuti quando lui ne aveva 42 e lei 23 poi si sono perse di vista Trieste però non è proprio una metropoli Liliana prima della pensione lavora negli uffici pubblici della regione e inoltre corre le 100 chilometri a piedi e dopo tanto tempo Liliana e Claudio si ritrovano dicono sia successo al cimitero si accorgono di ricordare ancora la data di quel loro primo incontro il 19 dicembre del 1981 e come per sali nella canzone di Vasco Rossi scoprono che la vita non è stata tutta persa anche se al momento è una vita parallela la verità è che dopo oltre un anno di indagini non sono emersi elementi per ipotizzare che Liliana sia stata davvero uccisa per questo motivo la procura di Trieste ha chiesto di archiviare il fascicolo nel suo decesso Liliana Nesinovich dunque secondo la procura si è tolta la vita in un modo assurdo a parer mio ma si è tolta la vita per il titolare del fascicolo la sola ricostruzione degli eventi consegnata dagli atti processuali e l'intenzionale allontanamento di Liliana Nesinovich dalla sua abitazione e dall'altrettanto intenzionale decisione di porre fine alla propria vita per il procuratore c'è un esame ragionato dei complessivi risultati dell'indagine che non consente altre ipotesi e dunque non legittima le illazioni arbitrarie e fantasiose germogliate qua e là nel gorgo mediatico decisiva si è rivelata la consulenza del medico legale chiesta dalla procura in cui si evidenzia l'assenza di segni ragionevolmente riportati a violenza per mano altrui la mancanza di lesioni attribuibili a difesa e di altre ferite che avrebbero potuto impedirle di reagire a un'aggressione l'ipotesi più convincente resta quindi la morte per asfissia provocata dai sacchetti trovati intorno al collo avvenuta circa due o tre giorni prima del ritrovamento del corpo chiudendo il caso la procura di Trieste non ha alcun dubbio sul suicidio l'unico elemento che non è stato possibile accertare rimane il giorno della morte un dilemma che secondo il PM però non incide sull'archiviazione nel comunicato viene puntualizzato che il dovere della procura è l'accertamento di eventuali reati contro la vittima non quello di ricostruirne in dettaglio ogni attimo degli ultimi giorni di vita una volta escluse ben inteso sia l'avvenuta segregazione contro la sua volontà sia la sussistenza di altre condotte lesive a suo danno ad opera di terzi il 21 febbraio del 2023 la procura ha chiesto quindi l'archiviazione nessun omicidio la donna si è tolta la vita questa è la conclusione dopo oltre un anno di indagini vi ricordo che resta controverso il giorno della morte per i medici legali sarebbe morta due o tre giorni prima del ritrovamento mentre la procura e il marito propendono per un decesso avvenuto poco dopo la scomparsa ed è anche più logico pensare a ciò a me pare illogico invece pensare che Liliana si sia nascosta per 20 giorni e che non l'abbia mangiato ma che senso ha sparire 20 giorni tornare in un parco tra l'altro vicino a casa sua e poi uccidersi in quel modo che ripeto per me questo suicidio è assurdo è improponibile come può una persona morire così c'era qualcuno che teneva chiusi i sacchi allora forse potrebbe essere possibile che sia nata così ma il fatto che Liliana abbia preso sia andata in quel parco si sia insacchettata e poi si sia lasciata cadere e morire è un'idea davvero assurda per quanto vi riguarda in ogni caso Vicentin come parte offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura magari chiedendo ulteriori approfondimenti sarà il GIP alla fine a decidere se archiviare accogliere eventuali integrazioni oppure ordinare nuove indagini per ora questo è ciò che si sa sul caso di Liliana ovviamente vi terrò aggiornati detto questo ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi interessante fatemi sapere cosa ne pensate di questo famosissimo caso ripeto per me il suicidio è davvero poco 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 probabile come già vi ho spiegato prima fatemi sapere cosa ne pensate voi invece cosa potrebbe essere successo come al solito ci becchiamo nei commenti nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti